Napolitano è una persona seria e dice a tutti gli italiani che bisogna comportarsi in modo serio. Non è possibile sostenere i provvedimenti del governo Monti, farsene carico e poi fare una campagna elettorale all'insegna della denigrazione di Monti e del suo governo. Non è una cosa seria. Chi in questi mesi ha messo la faccia sui provvedimenti del governo Monti, oggi deve in campagna elettorale non cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo la responsabilità di avere sostenuto Monti e lo diciamo davanti a tutti gli italiani, non c'era un'alternativa, l'alternativa era la Grecia. L'abbiamo evitata, oggi non possiamo falsificare la realtà e fare il gioco delle tre carte. L'abbiamo evitata, oggi non c'era un'alternativa, l'abbiamo evitata, l'abbiamo evitata, l'abbiamo evitata, l'abbiamo evitata, l'abbiamo evitata. Grazie.